con un nuovo preparatore atletico della Virtus Arechi Salerno Elia Confessore allora per presentarti Elia per presentare questa nuova stagione sempre più vicino l'inizio ho atticchiato innanzitutto le prime sensazioni entrando appunto nella grande famiglia della Virtus Arechi allora io sono veramente contento di stare qua adesso e so benissimo che la società ha grandi ambizioni, vuole fare bene, vuole strutturare una società, un settore giovanile una prima squadra come si deve e quindi sono veramente contento di far parte di questa famiglia allora Elia direi un percorso di crescita da giocatore adesso a preparatore atletico in una società che proprio della crescita sta cercando di fare un po' il suo marchio di fabbrica oggi siamo nella nuova struttura, adesso in work in progress proprio per i lavori che verranno e per l'inizio della nuova stagione ecco ti chiedo un attimino di raccontare quella che è la tua esperienza da dove vieni, da dove insomma si sviluppa la tua carriera per il giocatore prima la conosciamo anche da preparatore, insomma racconta un po' di te allora io sono uno che odia l'immobilità io faccio della sfida di ogni giorno il mio motto quindi per me quest'anno con le prerogative della società per me è una grande emozione, un grande stimolo per fare sempre di più per fare ancora meglio, questa è la mia nuova professione che è sempre work in progress nel senso che sei sempre in aggiornamento, sei sempre a studiare io sono uno che vuole sempre migliorare, vuole sempre andare avanti io vengo da una carriera da giocatore, poi ho studiato, laureato, ho fatto il corso e ho avuto la fortuna di fare delle gran belle esperienze sono partito col settore giovanile alla Juve Caserta ho lavorato con il Navoli Basket, ho lavorato con altre società minori ho finito quest'anno un'esperienza di due anni con la Serie A femminile a Battipaglia una gran bella esperienza e sono diventato formatore per i preparatori fisici teniamo dei corsi sia regionali che nazionali e lavoro con le nazionali giovanili quindi insomma mi sono tuffato a 360 gradi in questa professione, in questo lavoro e quindi sono contento di portare il mio contributo a questa società un impegno costante dicevi e poi una parola interessante, sfide tantissime sfide appunto che andremo ad affrontare nella nuova stagione prima squadra, settore giovanile ecco ti faccio una domanda proprio dal punto di vista della tua professione vale a dire come ci si avvia adesso a questa preparazione sicuramente una fase importante per poi vedere i risultati sul campo nel corso del campionato ecco su cosa andrà a lavorare la squadra proprio dal punto di vista atletico considerato che mancano pochissimi giorni al raduno ufficiale allora noi abbiamo già iniziato con tutti i giocatori della prima squadra e una buona parte dei giocatori under aggregati abbiamo già iniziato a lavorare nel senso che ci siamo già confrontati sulle cose stanno già eseguendo un programma di lavoro estivo con l'obiettivo di arrivare il prossimo lunedì il 19 dove siamo tutti insomma con una base su cui mettere il lavoro per affrontare il prossimo campionato ultimissima domanda che ha a che fare anche con il rapporto che avrai quotidianamente con lo staff tecnico ci sono stati dei cambiamenti importanti anche in seno allo staff tecnico per quanto riguarda la prima squadra Giovanni Benedetto con Adolfo Parillo assistente che si occuperà anche del settore giovanile ecco le prime interazioni con il nuovo staff tecnico della Virtus Aricchi ho il piacere di lavorare con il coach Giovanni Benedetto che è un coach molto esperto un coach che ha vinto tanto che conosce bene la categoria quindi da lui potrò imparare tanto ho la fortuna di lavorare con Adolfo Parillo che è stato mio allenatore per due anni quindi ci conosciamo bene, so bene lui come interpreta la palacanestro poi c'è Pino Corvo che come GM è veramente una grandissima risorsa per la società per me come preparatore e inoltre avremo a supporto uno staff sanitario di primissimo livello partendo dal centro Lars del presidente Renzullo e con altri centri che ci aiuteranno nella salute dei nostri giocatori e quindi al completamento dello staff siamo veramente proiettati verso un ottimo campionato perfetto io ti ringrazio chiaramente invito tutti i nostri tifosi a rimanere sintonizzati perché vi racconteremo ogni giorno tutte le novità in casa Virtus Aricchi Salerno a presto